Musica Allora mi chiamo Maria Clausi, sono giudice onorario presso la sezione penale del Tribunale di Catanzaro Scrivo anche romanzi, in questo convegno sono stata invitata da una delle organizzatrici, l'avvocato Angela Davoli che ha voluto che io fossi una delle relatrici per parlare del tema del bullismo in quanto uno dei romanzi che ho scritto tratta questo tema il romanzo che si intitola L'escluso e che è stato pubblicato da Lettere Animate Editore tratta tra i tanti temi, perché tratta anche altri temi, tratta anche il tema del bullismo praticamente in questo romanzo io racconto la vita di un ragazzo che vive in un paesino della provincia di Catanzaro di nome Alfredo, raccontando la vita di questo, ripercorrendo la vita del protagonista dall'infanzia fino all'età adulta, io tratto il tema del bullismo che è un fenomeno che il protagonista conosce in età prescolare prima poi durante le scuole elementari e poi durante le scuole merie quindi anche durante l'adolescenza poi quando si ripercorre la vita del protagonista in altre fasi nella fase della frequentazione del liceo, dell'università eccetera vengono poi trattati altri temi e questo è il motivo per il quale sono stata chiamata a parlare di questo tema oggi in questo convegno più che altro come autrice di quest'opera grazie a tutti grazie a tutti